L'obiettivo di questo avvio è di realmente in maniera sincera camminare mano per mano con le associazioni cittadini di Ponte San Giovanni con la consapevolezza che oggi abbiamo su quest'area delle risorse straordinarie che portano con sé delle opportunità che non possiamo non andare a cogliere fino in fondo. Quindi la volontà c'è di metterci queste risorse come è stato ma di accompagnare queste risorse con l'intelligenza, le competenze anche ovviamente quelle che ci vengono offerte dalla nostra università degli studi ma accompagnarle anche molto con la passione, i sentimenti, l'affetto e la conoscenza dei cittadini. Da questo incontro io sono più che mai convinto che verranno fuori delle scelte molto mirate, centrate e soprattutto si restituirà a quest'area così importante per il nostro territorio una nuova vita e veramente prospettive nuove. Grazie.